Al primo marzo 2022 sono state 59.604 le domande di assegno unico universale pervenute per un totale di 98.892 figli minori di 21 anni o disabili coinvolti. L'assegno unico universale da marzo sostituisce detrazioni per figli a carico ed assegni familiari percepiti fino ad oggi in busta paga. In Abruzzo si stima abbiano diritto alla misura complessivamente 135.000 famiglie. All'appello quindi mancano almeno altrettante domande rispetto a quelle fatte. Questi dati comunicati dall'Inps regionale al patronato Inca CGL. C'è tempo entro il 30 giugno, termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile chiedere gli arretrati. Sempre entro il 30 giugno, insieme alla domanda, è utile produrre il modello ISEE che consente di beneficiare di una serie di maggiorazioni sull'importo dell'assegno. Chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro avrà diritto ad un importo base di 175 euro mensili per ciascun figlio fino ai 18 anni, 85 euro per i figli dei 18 e 21 anni, oltre ad altre maggiorazioni in caso di presenza di figli disabili o famiglie numerose. Nel caso in cui si decidesse di non presentare il modello ISEE potrà comunque essere richiesto l'assegno unico, ma in questo caso sarà riconosciuto l'importo minimo per ciascun figlio pari a 50 euro, 25 per i figli maggiorenni fino a 21 anni. Per le domande presentate entro il 28 febbraio, l'Inps, con una procedura centralizzata, si è impegnata a mettere in pagamento tramite bonifico bancario che sarà accreditato direttamente sul conto del richiedente.